e quello lì è come ho fatto io prima sulla piastra bravo capa questa bottiglia che ci alleviamo e non so cosa c'è sotto però questo è il posteriore su sì che non pesa questo sotto c'è i sassi perché vedi che ci sono le pietre quindi o tiriamo via solo questo bravo e poi l'altra è buon basta bravo quelle lasciare di giardino dove lasciare lì che non ci prega niente tanto quale non inquinano ma guarda che è roba da non credere comunque bisogna veramente essere sai perché perché ci sono sui sassi arriva il lele già metà l'ha tirata su no aspetta perché tanto basta qua lascia stare no questi lasciati perché tanto qua fa niente c'è ancora incastrato prova tanto un pezzettino tira tira boh guarda che ti da su lui il bidone e buttalo dentro e lascialo tanto questi questi solo e solo sassi e cose lasciarli dentro no ma questi non ha senso portarli via cioè sono pietre sotto l'altro pezzo della panchina qua no ma è solo un che cacchio è sto coso spampi c'è un'altalena intera qua cos'è la natura guarda che cacchio fa è cresciuta dentro pur di mettiti qua che così mi tieni su tutta sta roba buttiglia stavolta sto più corto eh stavolta 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 macete come quando l'abbiamo perso l'ultima volta uguale dietro a ferdi dov'è ferdi macete macete no non lanciarmi jacopo prendiglielo te va che quello me lo tiro davvero 2 6 ragazzo se il mascherato parevi di utile se cattirà il gatto papo e fattire ma che cazzo e coprire le moto e copriamo le moto e questo spanti che non riesco il trattore allora più